Sei cuccioli di cinghiali sono stati rinvenuti morti nella notte a Sant'Arsegno, lungo la strada provinciale che unisce la cittadina salernitana con il comune di Polla. I veterinari dell'ASL hanno provveduto a rimuovere le carcasse per gli accertamenti del caso. Sui resti degli animali sarebbero state rinvenute una serie di lesioni e questo lascia ipotizzare che siano stati colpiti da veicoli. Ad indagare sono i vigili urbani della locale stazione che dovranno e eventualmente anche accertare se i cuccioli di cinghiali erano già morti quando sarebbero stati travolti. Nel frattempo si attende l'esito delle analisi. Serviranno anche a stabilire se fossero meno contagiati da peste suina, un dato rilevante considerando che l'episodio si è consumato su un territorio che confina con i comuni del Vallo di Diano, dichiarati zona rossa a contrasto della peste suina africana. La scorsa settimana una carcassa fu rinvenuta a polla risultò negativa al test. Si spera nello stesso esito per i cuccioli morti a Sant'Arsegno. Ai vigili urbani il compito di accertare le eventuali irresponsabilità per il loro decesso.